170 cavalli, trazione posteriore, differenziare l'autobloccante. Sound, un motore che per le nostre strade è fantastico e poi l'aria nei capelli. Sound, un motore che per le nostre strade è un'operazione di 10 secondi. Tutte le persone riconoscono in Abarth la sportività. I nostri venditori sono specializzati e competenti per il marchio Abarth. L'officina è autorizzata a Abarth. Al marchio Abarth ci teniamo. Tant'è vero che ogni anno organizziamo anche il raduno Abarth in Valle d'Aosta. Abarth in Valle d'Aosta Abarth in Valle d'Aosta